Ok, ti dite così, tu o? Io. Ce l'hai? Sì. Tienelo veloce qua, eh? Sì. Vuoi cabrare un po'? Sì, volentieri. Cabra, cabra. Ora, ok, tienilo così. Questa è una delfinata. Adesso metti di nuovo il muso delicatamente giù. Mi picchia un po'? Sì. Ok, perfetto. Con una delfinata così vengono ne ha toccanta metri. Sì.